Approvato nel Consiglio Comunale dello scorso 8 luglio il rendiconto dell'anno 2018 della città di Agropoli, nonostante le tante polemiche di questi ultimi tempi, il bilancio si è chiuso con un avanzo nettamente migliore rispetto al precedente, ha spiegato l'assessore al bilancio Mutali Passi. Nonostante l'aumento della spesa corrente dettata per lo più da spese postali per il recapito delle multe, le transazioni debitorie e i debiti fuori bilancio, infatti l'amministrazione comunale ha chiuso il bilancio con un avanzo di gestione di oltre 8 milioni e un risultato di amministrazione di circa 23 milioni di euro. L'esercizio 2018 si chiude con un avanzo della gestione di competenza di 8 milioni e 532 mila euro e con un avanzo, con un risultato di amministrazione di 23 milioni e 247 mila euro. Questo nonostante, diciamo, uno dei motivi che aveva fatto anche tardare l'approvazione, nonostante varie vicissitudini che ha interessato l'Ende negli ultimi tempi, anche il bilancio di previsione, i lavori persi con la redazione del bilancio di previsione avevano fatto tardare la redazione del consuntivo. Uno dei motivi per il ritardo è il fatto che il 17 aprile del 2019 la licenzia dell'entrata della discussione ex equitalia comunica all'ente di aver provveduto allo straccio, all'eliminazione, in base alla legge 145 del 2018, la cosiddetta legge della pace fiscale, aver eliminato posizioni di contribuenti che non avevano pagato tributi comunali dell'importo fino a 1000 euro, relativa a cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2010. L'ammontare di questa eliminazione è pari a circa 3 milioni e mezzo. Ci siamo resi conto subito con l'ufficio finanziario della drammacità della difficoltà per poter eventualmente definire il consuntivo. Nonostante abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione in netto miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente, nonostante nel corso dell'esercizio 2018 abbiamo dovuto affrontare circa un milione di euro in più di spese correnti dovute per la maggior parte a spese postali per la trasmissione delle multe stradali e al riconoscimento di debiti fuori bilancio e alla transazione di debitorie pregresse. Quindi è una parte che diciamo nel settore condensioso ha avuto un incremento di spese rispetto all'esercizio 2017. L'avanzo è stato poi diciamo è stato ripartito nel fondo potenale vingolato, sono stati accantonati nel rispetto di quello che la norma, il cosiddetto fondo credito di dubbia esegibilità e quindi posso con tranquillità affermare che il bilancio è in equilibrio. La problematica più evidente ammesso in risalto mutali passi è che l'ente è in crisi di liquidità di cassa. Da settembre l'azienda incaricata per la riscossione dei tributi metterà in campo azioni che non permetteranno ai contribuenti di rateizzare i contributi comunali dovuti. Dunque il consiglio dell'assessore mutali passi ai cittadini è di approfittare di questi due mesi per mettersi in regola con i tributi comunali. L'ente è in crisi di liquidità di cassa e il Collegio dei Revisori ci invita a predisporre tutte le azioni utili ad accelerare le entrate. Voglio cogliere l'occasione di ricordare ai contribuenti e ai cittadini che questa amministrazione, prima di aspettare che l'azienda alla quale sarà affidata la riscossione, mette in atto dei provvedimenti anche drastici con aggravio di spese. Voglio ricordare ai cittadini e ai contribuenti che questa amministrazione in passato aveva approvato due provvedimenti, quale il ravvedimento per osolungo e quale la rateizzazione dei tributi. Quindi voglio spronare i cittadini, casomai, ad approfittare di questi due strumenti, prima che non ci sia più nulla da fare e poi l'azienda che avrà affidato la gara non potrà fare nessuna applicazione di riduzione sulle sanzioni e quando adesso.